Ciao amici, benvenuti nel mio canale. Sono qui con un video fantastico. Prima di passare al mio video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace al mio video e supportarci. Grazie in anticipo. Ho deciso di raccontare in modo sorprendente le date del matrimonio di Ali Libraim Cheyan e Sila Turkoglu, una delle coppie più amate dalla televisione turca. Secondo le dichiarazioni precedenti, il loro matrimonio avrebbe dovuto svolgersi nei prossimi mesi, ma la coppia ha scelto gennaio 2024 per sfoggiare il loro amore sullo schermo. La relazione tra l'artista plurale e Ali Libraim Sealan, innamoratisi dopo essersi incontrati sul set della serie tv Dirty Basket, è diventata rapidamente uno degli argomenti più discussi nel mondo delle riviste. Dopo che la coppia ha annunciato di stare insieme, i fan e i media hanno iniziato ad attendere con impazienza la data del matrimonio della coppia. Innamoriamoci prima che, secondo la plebe, il matrimonio di Alachuloglu e Ali Libraim Cheyan venga rinviato al 2024. I due innamorati hanno deciso di fissare la data del loro matrimonio in questo modo in virtù del loro amore e devozione reciproca. Decisione che è stata accolta con grande sorpresa si era a luogo nel 2024 e questo giorno speciale è considerato uno dei più grandi eventi nel mondo milionario turco. Il matrimonio della coppia avrà famiglie, amici intimi e colleghi. La data del matrimonio di Sila Turkoglu e Ali Libraim dimostra ancora una volta quanto sia serio e profondo il loro rapporto d'amore. Grazie per aver guardato il video. Arrivederci in nuovi video. Arrivederci.